Buonasera, l'economia e lo sviluppo della Liguria legato ai finanziamenti dell'Unione Europea è stato ieri al centro di un convegno ospitato dalla sala grida della Borsa di Genova. L'iniziativa ha visto la presenza di esponenti della Regione, Union Camere e del mondo delle imprese. Economia e sviluppo della Regione Liguria, il contesto congiuntorale locale e i risultati dei programmi europei, dei finanziamenti anche europei, Assessore Enzo Cucinelli, il punto della situazione qui nella sala grida della Borsa di Genova. Allora qual è questa situazione? L'appuntamento oggi è importante perché abbiamo un doppio compito, fare il punto sulla spesa dei fondi 2006-2013 e questa è l'occasione di confronto nel quale andiamo a rendicontare cosa sta succedendo al mondo del lavoro economico, di impresa, delle istituzioni, al ministero che è presente. E di questo siamo soddisfatti perché l'andamento della spesa sta andando bene. Noi avevamo una tappa in cui venivamo valutati a fine ottobre, dovevamo produrre spesa certificata per 287 milioni, ne abbiamo prodotta 295, quindi siamo oltre rispetto agli obiettivi che il ministero ci ha assegnato. Non era facile, non era scontato, alcune regioni del centro-nord non hanno raggiunto questo obiettivo, quindi io lo vedo con preoccupazione, non con soddisfazione. Oggi dobbiamo lavorare per fare in modo che tutte le risorse che abbiamo a disposizione entro il 31 dicembre 2015, come ci chiede l'Unione Europea, li mettiamo a segno e li utilizziamo. La giornata è importante perché comincia anche l'altro percorso e quindi sarà una stagione dura perché dobbiamo ultimare la spesa del vecchio e cominciare a pensare come usiamo i fondi nuovi. Si inizia la stagione del nuovo settennato 14-20, è in corso la trattativa fra le regioni sul riparto delle risorse, noi siamo fiduciosi che porteremo a casa probabilmente una cifra molto simile a quella del precedente settennato, stiamo cominciando a definire con il parternariato quelli che saranno gli indirizzi di fondo di utilizzo di queste risorse. Ciao Pasquale, Presidente di Union Camere Liguria, il ruolo delle Camere di Commercio è fondamentale nel concertare anche quelle che possono essere le opportunità delle imprese, del resto Union Camere significa casa delle imprese come tutte le Camere di Commercio, ci saranno nuove opportunità con i finanziamenti europei? I finanziamenti europei sono un'opportunità importantissima per sostenere però un progetto o più progetti e i progetti dobbiamo metterli a punto noi, intendo dire in Liguria, ciascuno per la propria competenza, ciascuno per la sua parte, i progetti devono essere mirati e alla base dei progetti devono esserci azioni molto efficaci. Allora noi abbiamo un problema che è questo grande cambiamento conseguente a questa crisi e a fronte di questo cambiamento noi dobbiamo sostenerlo e sostenere tutte quelle imprese che decidono di accettare la sfida, in primo luogo quelle che si innovano, quelle che vanno all'estero, quelle che vanno alla ricerca di nuovi mercati, avendo capito che non è più il cliente che viene da noi in Liguria a cercarci, ma siamo noi che dobbiamo essere propositivi. Allora questa è una delle prime azioni importanti, la seconda azione è quella di favorire l'aggregazione di imprese, noi abbiamo imprese troppo piccole per poter fare grandi sforzi, dobbiamo aumentare la massa critica, allora consorzi, reti di imprese e quant'altro per fare in modo che questi si rafforzino lavorando insieme. Il terzo aspetto molto importante è quello dell'imprenditorialità, cioè fare in modo che i giovani in primo luogo, ma non solo, si rivolgano all'attività imprenditoriale come una soluzione alla esigenza di far valere le proprie attitudini, le proprie capacità. Quindi bisogna sostenere le start-up e la nuova imprenditorialità e soprattutto collegandosi con l'università, con i centri di ricerca, con l'IT, insomma con tutti i luoghi dove si fa ricerca in modo che si mettano insieme i migliori studenti, i migliori ricercatori e si creino imprese innovative e orientate al futuro. Dottor Scaiola, il ruolo di Union Camera è di essere molto attento nella scelta, anche nella selezione delle proposte per avviare una progettualità che sia poi finanziabile attraverso i fondi europei e così? Adesso finisce la tornata dei fondi 2007-2013. Noi qui abbiamo avuto un bel ruolo importante, grazie ad uno splendido rapporto con le associazioni di categoria e con la Regione. In questi anni abbiamo messo a disposizione della Regione le idee, i bisogni, le necessità, i problemi che ci venivano portati dalle aziende. Si riapre adesso una stagione nuova, 2014-2020. Abbiamo già dei contatti importanti con la Regione Liguria che ci riconosce un ruolo importante in rappresentanza delle imprese e stiamo portando degli elementi molto significativi per la programmazione dei prossimi bandi. Si è svolto questa mattina ad Imperia il corteo dei sindacati di CGL, Cisle e Will per lo sciopero generale di 4 ore. Presenti più di 400 persone, tra le quali anche alcuni lavoratori dell'Agnese e della cooperativa Ottavo. Noi servizi. Oggi scioperiamo contro il governo per cambiare questa legge di stabilità, una legge di stabilità che non mette in condizione di far ripartire il Paese e non ci consente di superare questa infinita crisi. Abbiamo bisogno di misure che sostengano i consumi, che diano una mano alle famiglie a tornare a spendere perché solo se ripartono i consumi è possibile far ripartire la crescita. Ci vogliono investimenti nel sistema produttivo. Tutto questo nella manovra finanziaria non c'è, bisogna che il governo cambi approccio altrimenti non usciremo mai dalla crisi. Oggi questa è importante manifestazione a Imperia, ma in tutti i capoluogo della regione Liguria, contro il patto di stabilità e quanto contenuto al suo interno. Noi chiediamo una riforma fiscale indirizzata alla tutela, allo sgravio nei confronti delle famiglie, nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei pensionati. Pare chiaro che oggi sia venuta fuori questa proposta di una legge di stabilità che di stabilità non ha assolutamente niente per il nostro paese, non prevede nulla per i lavoratori. Il Tar ha respinto l'ennesimo ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro la caccia. L'attività venatoria, già sospesa due volte nelle scorse settimane, prosegue così regolarmente. Vediamo. Questa volta il Tar ha dato ragione ai cacciatori e alla regione. Ieri in serata il Tribunale amministrativo Ligure ha infatti respinto la richiesta di sospensiva del calendario venatorio 2013-2014 richiesta da alcune associazioni ambientaliste. A schierarsi contro il documento approvato dalla Giunta regionale lo scorso 31 ottobre, il terzo dopo i precedenti ricorsi, erano stati il WWF, la LAC e il VAS. Una decisione che è stata subito accolta con grande soddisfazione da parte della regione che nelle ultime settimane aveva dovuto affrontare l'emergenza derivata dai continui ricorsi e dai successivi due stop alla caccia. Una situazione che aveva creato non pochi problemi per gli stessi cacciatori che dopo aver pagato tesserini e tasse si erano visti negare la possibilità di esercitare l'attività venatoria. Esprimo soddisfazione per l'esito ma soprattutto per le motivazioni che il Tar ha dato dimostrando il buon lavoro fatto dalla regione Liguria, ha detto l'assessore regionale all'ambiente Renato Abriano. In particolare il Tar scrive che la regione Liguria si è conformata alle indicazioni emergenti dal parere dell'ISPRA e dalla sentenza dell'agosto scorso concernente la previsione di giornate aggiuntive di caccia nel mese di novembre. Il Tar però è andato anche oltre ed ha dichiarato che ulteriori censure riproposte con i motivi aggiunti, con riferimento alla mancanza della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza, di una valida programmazione faunistica regionale e alla termine di riconsegna del tesserino venatorio sono già state giudicate infondate. Soddisfazione anche da parte del capogruppo della Lega Nord Francesco Bruzzone. La tutela legale della caccia deve proseguire, ha detto, auspicando che gli ambientalisti si assumano le responsabilità facendo fronte ai danni arrecati alle diverse categorie. Intanto l'assessore provinciale alla caccia Paolo Leuzzi, oltre ad esprimere soddisfazione per questo pronunciamento del Tar, ha fatto sapere oggi che la Giunta ha consentito il recupero delle tre giornate di caccia e di selezione al camuscio che erano state sospese appunto in attesa dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo. Prosegue il ciclo di incontri periodici alla Casa di Riposo Borea di Sanremo, gestita dalla cooperativa Il Faggio. Domani infatti è in programma un momento di analisi e confronto sui modelli di alimentazione nelle residenze per anziani. In programma anche un incontro con il Presidente Nazionale di Lega Cop, Giuliano Poletti. Ne abbiamo parlato con la direttrice dell'Istituto Borea, Cristina Iasco. Sentiamo. Nuovo appuntamento domani alla Casa di Riposo Borea di Sanremo. In programma un incontro particolare su un tema importante, quello dell'alimentazione. Sì, eccoci, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo a continuare la serie degli eventi iniziata con il seminario di Montaldo sul sistema sanitario in Italia. Adesso continuiamo, questa volta parlando di un argomento molto attuale, modelli di alimentazione nelle residenze per gli anziani, dove parliamo un attimo di quanto è importante il cibo, di quanto è importante mangiare sano. Parleremo anche dell'iniziativa della cooperativa Il Faggio, quella di produrre i suoi prodotti biologici presso la nostra struttura Nava. E questa produzione praticamente utilizzare nelle nostre strutture a Nava e a Sanremo, certamente in collaborazione con lo SPES di Ventimiglia. La giornata di domani, che si aprirà con l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale, vedrà anche la partecipazione di un ospite particolare. Sì, un ospite particolare e simpaticissimo è il presidente della Lega Copp nazionale, Giuliano Poletti, che abbiamo l'onore di avere come ospite al Borea. Lui verrà un attimo a visitare la struttura, a riscattare un attimo la fama delle cooperative, poi a parlare un attimo della cooperazione, l'importanza della cooperazione, l'importanza delle cooperative in questo mondo, cioè in questo mondo di crisi, in questo mondo attuale. Appunto parleremo, tratteremo un po' di argomenti di cui alcuni sono quelli di... cioè la cooperativa non soltanto da punto di vista sociosanitario, ma anche parlando di un superamento del forma contrattuale, parlando un po' del rapporto con i sindacati, parleremo un attimo anche dell'ingresso delle cooperative sociali nel discorso delle pene alternative, cioè nelle carceri alternative. Un altro argomento è l'inserimento strutturale delle cooperative sociali nell'intervento a favore dei profughi, negli SPRAR. Tutti questi argomenti considero importantissimi al giorno. Gabriella Piccolo, ex candidata alle comunali di Imperia per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, in una nota inviata alle redazioni, ha accusato l'ex candidato sindaco del Movimento e l'attuale consigliere comunale Antonio Russo di farlo oggetto di continui attacchi, dimenticandosi che il 5 Stelle non è un partito e a livello locale non ha alcuna autorità giuridica. Secondo la Piccolo, i consiglieri eletti non hanno diritto di cacciare gli iscritti dal Movimento ed ha annunciato che il Metap Amici di Beppe Grillo Imperia ha fatto un sondaggio dove, secondo i principi del Movimento, gli attivisti e i cittadini possono chiedere la riconferma semestrale dei consiglieri eletti. I corretti stili di vita e la sana alimentazione saranno al centro di una serie di iniziative che la Coldiret ha organizzato per Olio Oliva, la festa dell'olio nuovo che si aprirà domani ad Imperia. In programma infatti la Tombola del Gusto è per i più piccoli il gioco oliva. Vediamo. Ci sarà anche la Tombola del Gusto all'interno della nuova edizione di Olio Oliva che si aprirà ufficialmente domani. La particolare iniziativa è stata lanciata dalla Coldiretti d'Imperia. Punto centrale sarà il villaggio del gusto della Coldiretti che si troverà nel largo piana all'altezza del parcheggio dietro a Piazza Dante verso la stazione ferroviaria, dove i visitatori potranno trovare anche il mercato Campania Amica con le eccellenze tipiche del territorio, non solo olio exavergine d'oliva ma anche formaggio, vino e cibo da strada. Per ogni 10 euro di prodotti acquistati presso gli stand aderenti alla Coldiretti i visitatori riceveranno infatti una cartella per giocare a questa Tombola del Gusto i cui premi in palio sono legati al territorio come buoni acquisto per notamenti in agriturismo o cene. Da sempre la Coldiretti si batte infatti per la valorizzazione e la promozione delle tipicità locali anche come corretta alimentazione attraverso la pubblicità dei prodotti a chilometro zero a garanzia di gusto e sicurezza. Una filosofia importante anche per l'economia del territorio che ad olio oliva sarà portata all'attenzione anche dei bambini attraverso una serie di giochi. Sempre nel villaggio del gusto della Coldiretti infatti si svolgerà Gioca Gioliva, una sorta di gioco dell'oca dove i bambini saranno le pedine che saltellando di casella in casella impareranno le buone abitudini alimentari, la stagionalità dei prodotti i prodotti tipici del nostro territorio nonché il ciclo dell'olio con le varie fasi agronomiche e produttive nell'arco dell'anno. Non mancheranno ovviamente simpatici omaggi a tutti i bimbi che parteciperanno. E anche quest'anno in occasione di Olio Oliva sarà presente la CIA la Confederazione Italiana Agricoltori diverse le iniziative e le aziende coinvolte. A parlarcene Paola Anselme responsabile olivicoltura della CIA. Vediamo. Noi come organizzazione tutti gli anni parteciperanno a Olio Oliva con le nostre aziende ovviamente. Abbiamo le aziende d'olio che saranno come al solito all'inizio di Via Bonfante abbiamo le aziende che propongono tutti gli altri prodotti tipici della nostra terra e quindi dalle piante ornamentali che saranno in Piazza Dante e poi abbiamo voluto creare una piazza dei sapori, così se vogliamo chiamarla dove daremo possibilità al pubblico di assaggiare, toccare con mano quelli che sono i prodotti tipici, i naffiati di olio d'oliva ma anche di buon vino ormeasco e vini bianchi, vermentino e pigato. Avremo i formaggi, avremo la carne prodotta dagli allevamenti dell'introterra avremo gli agriturismi che tramite il turismo verde proporranno i loro piatti e quindi invitiamo un po' tutti a volerci venire a trovare e assaggiare insieme queste specialità. D'altra parte opereremo anche nei laboratori tematici dove quest'anno presenteremo una sfida fra gli amatoriali, i beginners, i principianti se vogliamo dire così, che spesso non sono così ma sono veri e propri professionisti quindi le casalinghe che proporranno le torte di zucca e trombette verranno valutate da una giuria composta da agriturismi e poi le sorti si ribalteranno questo sabato, domenica chi arriverà per primo, quindi i primi 5 classificati della categoria principianti diciamo così, o amatori se vogliamo dire giudicheranno invece le torte fatte dagli nostri agriturismi e lì vedremo chi effettivamente ha meglio assorbito, meglio preso meglio interpretato il tema sulla torta di zucca e trombette vi invitiamo fino agli ultimi momenti, le ultime ore per presentare le adesioni verificate sul sito di Olio Oliva e vi invitiamo numerosi sia con le torte sia a voler magari assaggiare un pezzo di queste torte con un goccio di vino insieme con noi E sempre in occasione di Olio Oliva, la confraternita dell'Ormeasco presenterà una nuova bottiglia con etichetta dedicata a parlarci dell'iniziativa, è stato il cancelliere della confraternita Giuliano Ferrari sentiamo Giuliano Ferrari, cancelliere della confraternita dell'Ormeasco ci avviciniamo ai festeggiamenti di San Martino e in occasione di Olio Oliva c'è un appuntamento che riguarda la confraternita riguarda soprattutto il vino della nostra Valle Arroce Sì, quest'anno festeggiamo i 15 anni di fondazione della confraternita che è nata proprio l'11 novembre del 98 nel castello di Pornassio allora per questo evento, dopo tante iniziative di vario tipo abbiamo pensato di produrre un vino della confraternita e proprio la sera di San Martino, pochi giorni fa abbiamo aperto la prima bottiglia di questo vino che sembra avere le permesse per diventare veramente un ottimo veicolo promozionale per la confraternita e la prima presentazione ufficiale sarà proprio in occasione di Olio Oliva sabato alle 17 in via Viese a Oneglia nell'area istituzionale presenteremo ufficialmente agli organi di informazione e all'autorità questo nostro vino che è un vino prodotto appunto dalle varie aziende che agliariscono alla confraternita dell'ormeasco ci sembra come dire un passaggio un punto di arrivo rispetto ai 15 anni in cui ho operato la confraternita ma anche un punto di partenza per idee nuove e soprattutto c'è da sottolineare che mettere insieme in un territorio come il nostro che sappiamo è sempre un po' come dire ciascuno pensa a se stesso le aziende sono un po' chiuse mettere insieme sette aziende che fanno un prodotto ci sembra già un buon risultato L'assessore provinciale imperiese Cristina Barabino impegnata da tempo nel contrasto alla violenza sulle donne e sui minori attraverso l'azione particolarmente attiva del centro provinciale antiviolenza nell'ambito delle iniziative correlate al 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha reso noto che in occasione della manifestazione Olio Oliva che avrà appunto luogo nel weekend ad Imperia sarà presente anche uno spazio dedicato alla sensibilizzazione della popolazione sulla specifica problematica l'iniziativa promossa dallo Zonta Club Imperia è realizzata in collaborazione con il centro provinciale antiviolenza e con il comune di Imperia avrà luogo sabato e domenica a partire dalle 10 fino alle 18 nella scalinata di accesso e sotto il porticato della biblioteca passiamo alla cronaca è morto Andrea Contu il quarantenne di Ventimiglia è rimasto gravemente ustionato lo scorso 4 novembre a seguito dell'esplosione nella sua abitazione in frazione si alza a Ventimiglia l'uomo era stato prima ricoverato all'ospedale di Bordighera poi viste le sue gravi condizioni era stato trasferito nel reparto grandi ustionati di Genova le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate negli ultimi giorni tanto da comportarne il decesso secondo quanto appurato dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Ventimiglia l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas l'ex assessore di Sanremo ed ex direttore della scuola edile di Imperia Giorgio Silvano si trova ricoverato all'ospedale del capoluogo in gravi condizioni anche se non in pericolo di vita Silvano è infatti rimasto coinvolto l'altro giorno in un incidente stradale a bordo della sua vettura sulla statale Aurelia all'altezza di Costa Rai Nera riportando diverse fratture al costato e in altre parti del corpo ed è stato trasferito in carcere Paolo Trinchieri 63 anni di Bordighiera già ristretto ai domiciliari dei primi di ottobre con l'accusa di truffe l'uomo secondo quanto ricostruito dai carabinieri si spacciava per comandante della Costa Crociere in pensione per attuare alcune truffe ora è finito in carcere per violazioni della misura dei domiciliari gli agenti della questura di Imperia hanno denunciato un tunisino per furto aggravato lo straniero per organizzare una cena galante a casa sua aveva infatti rubato dagli scaffali di un supermercato due orate ed una confezione di profumo che avrebbe dovuto regalare appunto alla sua ospite intervento dei vigili del fuoco questa mattina sulla statale Aurelia a Costa Rai Nera dove un principio di incendio era divampato a bordo strada l'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti le fiamme sono state causate probabilmente da un mozzicone di sigaretta lanciata da una vettura in corsa il rugo è stato spento in pochi minuti senza causare ulteriori danni ma questo fa capire la pericolosità di compiere gesti che oltre ad essere incivili possono costituire un serio pericolo un servizio di controllo in alcuni negozi di Sanremo è stato effettuato oggi da parte dei carabinieri della locale stazione e dell'ispettorato del lavoro l'attività si è concentrata prevalentemente negli esercizi gestiti da stranieri in piazza Eroi Sarremesi in via Matteotti e piazza Colombo l'obiettivo era quello di valutare possibili presenze irregolari sul territorio nazionale ed eventuali illeciti sul posto di lavoro come messi in regola di dipendenti e rispetto delle norme di sicurezza un'attività commerciale in piazza Colombo è stata sospesa nei prossimi giorni dopo le verifiche della documentazione presentata potrebbero essere elevate alcune sanzioni noi facciamo una breve pausa ci sentiamo come sempre subito dopo ha preso il via oggi ad Imperio il forum della dieta mediterranea tre giorni di incontri di dibattiti dedicati all'educazione alimentare con la partecipazione di rappresentanti di 13 paesi che si affacciano sul mare nostro in servizio in servizio dottoressa Chiara della Pasqua già funzionario dell'Unione Europea attualmente al Ministero per le politiche agricole forestali quali sono le prospettive future proprio del settore agricolo possiamo dire di età mediterranea ma delle produzioni più in generale anche alla luce del sostegno dell'Unione Europea il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 offre sicuramente delle possibilità molto più estese soprattutto per quanto riguarda il supporto per le strategie di sviluppo locale in particolare ci sarà un regolamento ombrello per i vari fondi dell'Unione Europea di modo che vengano utilizzati in una maniera più efficace ed efficiente a livello territoriale e quindi la nuova programmazione offrirà un sostegno molto più solido ai gruppi di azione locale nelle aree rurali ma non solo e quindi con il coinvolgimento anche degli altri fondi strutturali europei soprattutto per quanto riguarda strategie per valorizzare il territorio locale a seconda dei bisogni e della situazione specifica Presidente Enrico Lupio un appuntamento con il forum ormai legato indissolubilmente a olio oliva c'è da traguardare anche SPO 2015 c'è da affrontare comunque un periodo molto difficile per tutti i settori anche quello agroalimentare non si sottrae purtroppo guardi non si sottrae nessun comparto alla crisi economica devo dire che il comparto agroalimentare evocato all'esportazione al di fuori dei confini nazionali parte col segno più le nostre imprese che esportano olio nel mondo direi che hanno un trend positivo noi facciamo questo grande sforzo questo grande impegno di celebrare il forum della dieta mediterranea con l'Empi che valorizza questo progetto comunitario sempre sulla dieta mediterranea per portare al centro dell'attenzione queste tematiche la città d'Imperia che idealmente racchiude questa attenzione direi globale sulla dieta mediterranea sui suoi valori lanciando un ponte sull'Expo 2015 che ha come tema l'alimentazione credo che noi abbiamo le carte in regola per essere protagonisti nell'Expo 2015 su queste tematiche e riteniamo di essere anche attrattori attraenti sui nostri territori dei visitatori dell'Expo 2015 Mara Benesposto è la vicepresidente del GAC il gruppo di azione costiere partecipate al forum della dieta mediterranea per rivendicare quale posizione in sostanza intanto siamo grati per l'organizzazione perché ci ha invitato con un ruolo anche importante al forum della dieta mediterranea il pesce sicuramente è uno dei componenti migliori della dieta ma soprattutto abbiamo la possibilità di utilizzare questa vetrina per portare a conoscenza della popolazione d'Imperia ma anche di tutti gli altri partecipanti dei due progetti di cooperazione internazionale che abbiamo messo all'interno del nostro piano di sviluppo locale del GAC il mare delle Alpi in realtà noi vorremmo con forza sostenere una posizione unitaria sia con il Barroa che con la Catalogna ma abbiamo anche interessamenti da parte dei corsi e dall'altra parte della Sardegna per creare un documento da presentare alla DigiPesca di Bruxelles dove rivendichiamo che pescaturismo e itturismo restino attività complementari alla pesca e non alternative come invece sembra essere nella nuova programmazione europea non vogliamo più che le politiche siano quelle di esclusione di addetti dal settore ma anzi tentiamo di incentivare i giovani ad avvicinarsi a questo mestiere che è duro ma che è anche molto bello bisogna dire che l'Italia aveva con il pescaturismo e il lititurismo già avviato un processo di questo tipo di offrire delle attività integrative ai pescatori ai imprenditori del settore considerando la crisi del settore e l'interesse anche diciamo culturale che ci può essere nei confronti di questa attività tradizionale per il nostro paese e questa misura di cui oggi si parlerà finanziata dalla comunità europea va proprio in questa direzione di fare interagire e integrare le politiche del settore ittico con quelle degli altri settori socioeconomici che hanno un interesse allo sfruttamento della risorsa ittica del mare della cultura della valorizzazione e quindi si finanziano dei gruppi di partenariato pubblico privati in cui le imprese di pesca svolgono un ruolo di protagonisti attivi ma si mettono in sinergia con gli altri settori socioeconomici con gli enti locali e quindi per dar vita a un vero e proprio piano di sviluppo locale integrato e appunto basato sulle ricchezze le risorse le opportunità di un determinato territorio è una sfida difficile importante ma che noi cerchiamo di combattere con forza con determinazione per questo che è stata creata anche questa idea del forum della dieta militarana legata a olioliva per dare supporto anche scientifico e culturale a una manifestazione già importante come olioliva che però aveva un carattere più divulgativo più diciamo popolare che è importante anche quello ma deve essere supportato per dare sfogo alle imprese per dare possibilità di incremento dell'attività imperditoriale economica anche dal punto di vista anche culturale e scientifico la dieta mediterranea che poi è l'alimentazione mediterranea è molto importante perché sviluppa un concetto che è salutistico intorno a dei prodotti che per noi sono naturali che sono l'olio l'extravergine tutti i prodotti derivati la pasta il pesce e tutti i prodotti anche legati a questo mare nostrum che è importantissimo quindi ecco perché noi stiamo sviluppando questo concetto di unire insieme cultura scienza e grande manifestazione economico di oliva sperando che imperia rimanga nell'immaginario collettivo come un luogo dove si produce e si vive la dieta mediterranea nel vero senso della parola l'olificio sociale di Ranzo nell'entroterra della Valle Arroscia ha aperto la campagna olearia 2013-2014 l'olificio è attrezzato con lavatrice due gramole macina in granito decanter e separatori per dare più qualità e più resa la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0183 31 85 01 l'università della terza età fa sapere che sabato alle 15 e 30 nella sede di piazza Calvia d'Imperi avrà luogo l'inaugurazione dell'anno accademico la prolusione sul tema le neviere delle valli imperie sarà tenuta dal professor Giberto Calandri uno spazio dedicato al grande artista Saramese Antonio Rubino sarà attrezzato all'interno del museo civico della città dei fiori a Palazzo Bore a Dolmo in via Matteotti l'area ospiterà il patrimonio delle sue opere tra quadri riviste libri manifesti e giochi che ora sono di proprietà del comune un prezioso tesoro che sarà quindi a disposizione degli studiosi e del pubblico ora come sempre ci occupiamo dei cantieri sulla strada dei fiori poi vedremo insieme il quadro meteo questi cantieri sull'autofiori sul tratto di A10 di competenza Savona a confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 11 a domenica 17 novembre in direzione Francia a careggiata Nord tra Sputorno e Feglino riduzione di careggiata per adeguamento dell'impianto di illuminazione a galleria Tosse e Correallo da lunedì a venerdì anche notturno tra Finale Ligure e Pietraligure è careggiata a doppio senso per il rifacimento della pavimentazione alla galleria Montegrosso da lunedì a venerdì anche notturno tra Imperi S ed Imperi Ovest riduzione di careggiata per l'installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica da lunedì a venerdì e anche notturno tra Arma di Taggia e Sanremo carregiata a doppio senso per manutenzione al viadotto Rio Gozzo da lunedì a domenica e anche notturno tra Ventimiglia e Mentone riduzione di careggiata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Latte da lunedì a domenica anche notturno in direzione Genova carregiata sud tra Mentone e Ventimiglia riduzione di careggiata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Latte da lunedì a domenica anche notturno tra Sanremo del viadotto Rio Gozzo, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Arma di Taggia ed Imperio Ovest riduzione di carreggiate per il sanamento di un cordolo al viadotto San Lorenzo, da lunedì a venerdì, tra Imperio Ovest ed Imperio Est riduzione di carreggiata per l'installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica, da lunedì a venerdì anche notturno. E tra Pietraligure e finale scambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione alla Galleria Montegrosso, da lunedì a venerdì anche notturno. Il quadro meteo è elaborato da Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, venerdì 15 novembre. Domani sarà una giornata instabile e più fredda. Nella prima parte della giornata piogge diffuse, deboli o moderate, con possibili temporali localmente forse sul centro Levante. Non si escludono locali grandinati e possibili deboli nevicate sui rilievi dei versanti padani. Ancora venti forti settentrionali. Dopo una parziale tregua nelle ore centrali, nuova ripresa delle precipitazioni da Levante in serata. Umidità su valori medio-alti, venti forti a tratti di burrasca dai quadranti settentrionali. I mari molto mossi, localmente agitati a Ponente, con la possibilità di locali brevi mareggiate a Levante per onda lunga. Nel pomeriggio in generale calo, fino a mosso, nuovamente molto mossi in serata a Ponente, agitato a largo. La protezione civile segnala, fino alle prime ore della giornata, possibili temporali localmente forti. Al mattino possibili deboli nevicate sui rilievi dei versanti padani, oltre 600-800 metri a Ponente, oltre 1000 metri a Levante. Burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche tra 70 e 80 chilometri orari. Dopodomani, sabato 16 novembre, variabile, con precipitazioni di residue sul Ponente, schiarite più ampio a Levante. Umidità su valori medio-alti, venti ancora settentrionali, tra moderati e forti, con raffiche di burrasca, in particolare sul centro Ponente. Il mare, tra mosso e molto mosso a Ponente, mosso a Levante. Nessuna segnalazione di protezione civile. Bene, è tutto. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. L'appuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperietv.it. Grazie dell'ascolto a tutti voi e una buona serata. Grazie.